Siamo giunti al momento principale, quello che è la promozione di un evento che caratterizza la nostra terra, presentare per la 48esima volta la Passione di Cristo di Lizzano e lo facciamo in questo splendido scenario del GAL, GAL Terre del Primitivo, che vede accomunati oltre alla nostra città anche quella di Torre Santa Susanna e Oria. Abbiamo scelto di condividere anche l'aspetto di promozione degli eventi perché le nostre tre città si sentono unite nel voler rappresentare il messaggio salvifico della croce e lo facciamo con grande soddisfazione. Siamo ospiti di questa struttura proprio perché vogliamo valorizzare al meglio quelle che sono le peculiarità del nostro territorio e ci auguriamo che già da oggi possiamo continuare a percorrere una strada che ci accomuna e che vedrà probabilmente il suo culmine proprio nel momento in cui andremo a sostenere ulteriormente la nostra candidatura perché l'UNESCO riconosca le nostre tradizioni come patrimonio immateriale dell'umanità.